Mastro 17 anni e più, andiamo quindi con Manuele Bovecchi, l'unico alle corsi centrali che va alla comando, c'è poi Nicolasso Co, abbiamo la terza posizione del numero 469, quindi Axel Martinello per il dobbio miscrianzo, e abbiamo quello che guarda, c'è poi un'intero, un'intero è saluta, è stato un'intero, è stato un'intero, è stato molto forte, tanto forte, quindi parlo di bocchi, abbiamo il corso Co, Axel Martinello, e nel ritardo veloce di Mattia Caramiglia sulla linea, arriva per centrare la pianificazione.